Oh, fermi così! A posto, via! Potete andare, vai! Buongiorno di essere venuti, noi con piacere abbiamo rimesso in piedi questa manifestazione come abbiamo già fatto negli anni scorsi, anche l'anno scorso in un periodo difficile l'abbiamo fatto lo stesso, credo che molti sono ritornati quindi si sono divertiti noi siamo un numero normale per le marche, siamo ritornati il numero di mostri su 150 portanti Vai vai, devo arrivare a giù, dove sei a giù? Mauri, fai inserciare un pochino! Bravo, 150, vai vai da! Partite, non vi suona la campana, ok? Però quando ripassate qui sotto è l'arrivo, va bene? Oh, via! E abbiamo il numero 159! Grazie! 3, 2, 1, via! Grazie! 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 38, 37, 46, 31. No, ci passo io, per vedere se c'è questa bandiera, perché per tirare giù le bandiere là su, cazzo, da solo. 3, 2, 1, via! Ok, va bene, dai, ci sentiamo domattina allora, dai! 3, 2, 1, via! Vai Mario, vai! Vai Mario, vai Viti! Vai! Vai Viti! Vai Viti! Percorso, ecco lì arrivo, sprint finale! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.